C'è un cambio di procedura al CUP, Centro Unico di Prenotazione Sanitaria. E' quello stilato da Flavia Carle, che dallo scorso maggio è capo dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche. L'edizione odierna del resto del Carlino ha sollevato la particolarità di una circolare dell'ARS che prevede come gli operatori del CUP avranno un atteggiamento d'ora in poi più essenziale, finalizzato esclusivamente a fissare appuntamenti per prestazioni medico-sanitarie con scarso margine alla colloquialità e alle valutazioni personali degli operatori. Una scelta precisa che è stata analizzata nel nuovo piano sociosanitario. Nel piano sociosanitario abbiamo analizzato chiaramente il tema del tema annoso delle liste d'attesa, delle problematiche legate al CUP. Questa è una procedura che ha previsto la nuova direttrice dell'ARS, la dottoressa Carle, ma non vedo il motivo di questa polemica. È solamente una procedura che è finalizzata ad un informare il sistema ed evitare che ci siano degli operatori che dicono una cosa ed altri che diano una versione completamente diversa. Quindi cercare di essere snelli, veloci, rapidi, ma soprattutto efficienti e cercare i posti nella maniera più veloce e più utile per l'utente.